Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, tanta la cronaca diversi gli episodi avvenuti nelle ultime ore di cui parleremo a breve, parleremo però anche delle alte temperature, del rischio gelato e tardive che mettono preoccupazione agli agricoltori, un settore come sappiamo importante per il ferrarese, ma in questa edizione parleremo anche di ambiente e di produzione di idrogeno perché la regione punta su questa nuova produzione, punta forte e lo fa anche Ferrara, sono in arrivo, sarebbero in arrivo i primi autobus in città, autobus a idrogeno, poi sempre in questa edizione parleremo ovviamente anche di sport e di quello che sta avvenendo in città per quanto riguarda ad esempio i lavori alla chiesa di San Paolo, ma apriamo però con la cronaca e con un docente che sarebbe stato aggredito con un pugno al volto da parte del patrigno di un'allieva ripresa dall'insegnante durante le elezioni, l'episodio è avvenuto circa un mese fa nel Copparese, poco prima delle vacanze natalizie, il docente quarantenne aveva ripreso la giovane studentessa e si era accesa una discussione, la minorenne avrebbe riferito l'accaduto al patrigno, il quale si sarebbe presentato all'uscita dell'istituto scolastico a fine elezione e avrebbe sferrato un pugno al volto dell'insegnante aggredito che poi si è arrecato al pronto soccorso di Cona per le cure del caso e dopo aver meditato sul come affrontare la vicenda ha deciso di querelare l'aggressore, i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile del gesto, uomo residente in provincia di Ferrara e lo hanno denunciato per lesioni personali. E torneremo a breve sulla cronaca, adesso però dobbiamo parlare di agricoltura, un settore come abbiamo detto fondamentale per tutto il territorio ferrarese, ci si appresta a vivere un momento dell'anno sempre con molte problematiche, in particolare però negli ultimi anni da quando si riscontrano temperature più alte della media e tutti i problemi che ne derivano. Sentiamo. C'è preoccupazione tra gli agricoltori del comparto frutticolo, in particolare per via delle alte temperature. In questo periodo sono di gran lunga superiori rispetto alle medie invernali e potrebbero danneggiare le produzioni. A tracciare il punto della situazione confagricoltura Ferrara, nei mesi di dicembre e di gennaio si evidenzia il caldo anomalo. Non ha fatto fermare il ciclo di crescita delle piante e ciò potrebbe portare a una ripresa vegetativa precoce di albicocche, pesche e prugne, ripresa che porterebbe alla nascita dei primi germogli sulla pianta. Come già accaduto nel 2020-2021, una germogliazione così precoce esporrebbe alla perdita di gran parte della produzione a causa delle frequenti gelate tardive che ultimamente si stanno verificando in primavera. Fondamentale in questo caso l'attivazione delle assicurazioni, dicono da Confagricoltura. Un altro tema che preoccupa gli agricoltori riguarda l'approvvigionamento idrico attualmente è scarsa, la quantità di precipitazioni e il livello delle falde acquifere risulta più basso rispetto alla media del periodo. La speranza è che le piogge e i primaverili possano consentire un adeguato ristoro di bacini e corsi d'acqua. Ancora cronaca aggredisce la compagna, i carabinieri la proteggono e lui li colpisce, è restato un 32enne bolognese violentalite ieri notte in via Cesare Terranova a Santa Mariaco di Fiume, frazione d'Argenta, dove era stato segnalato l'accaduto da più residenti. I carabinieri hanno trovato la coppia a litigare pesantemente. La donna, 27enne bolognese, ha detto di essere stata aggredita e minacciata dal fidanzato. Nel corso delle fasi di identificazione l'uomo avrebbe continuato a inveire contro la giovane cercando di aggredirla, tanto che i carabinieri si sono messi tra i due. Il fidanzato avrebbe minacciato di morte i militari e li avrebbe aggrediti, arrestato per violenza e minaccia pubblico ufficiale. Questa mattina il giudice lo ha condannato dopo il patteggiamento alla pena di un anno di reclusione. E ora cambiamo totalmente argomento. Energia pulita e produzione di idrogeno verde. La regione Emilia Romagna dà il via alla realizzazione di impianti in aree industriali dismesse e mette a disposizione quasi 20 milioni di euro a sostegno degli investimenti. Vediamo. L'Emilia Romagna punta sull'idrogeno. Al via un bando regionale che andrà a selezionare i progetti per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno green. Ci siamo candidati a PNRR e oggi siamo in condizione di fare un bando di 19,5 milioni di euro, ma non sarà un investimento a pioggia. Saranno bandi che per i criteri che ha il bando stesso saranno investimenti di grande qualità e di grande dimensione. Il vincolo che è stato dato al bando è di produrre un mega di idrogeno che vuol dire che per fare un mega di idrogeno ha bisogno di 3 mega di fotovoltaico, ha bisogno di 20 mila metri quadrati di terreno per mettere il fotovoltaico e, grande novità, il vincolo è di utilizzare zone industriali dismesse. Quindi consumo del suolo zero, vai a recuperare un territorio, ma la vera novità è che hai bisogno di fare investimenti in tecnologia, in progettazione, in elettrolisi. Se uno dice elettrolisi spieghiamo alla nostra gente cos'è un'elettrolisi. L'elettrolisi è la macchina che permette di tramutare ovviamente l'acqua in energia, quindi un fatto dal punto di vista green è la tecnologia più pulita, poi bisogna fare stoccaggio. Entro il 20 febbraio la presentazione delle domande, entro il 31 marzo la pubblicazione della graduatoria. Obiettivo è far nascere nuovi siti di produzione di energia pulita, in particolare nelle zone con insediamenti energivori. I soggetti più propensi a utilizzare l'idrogeno sono i soggetti energivori, quelli che per produzione che fanno non riescono certamente a battere il fossile che utilizzano. Provate a immaginare le ceramiche, provate a immaginare vetrerie, provate a immaginare le acciaierie, provate a immaginare i petrolchimici, potrei continuare. Quindi questi soggetti guardano con grande attenzione l'idrogeno e poi diciamo un'altra verità. Gli investimenti sulle rinnovabili stanno diventando convenienti e quindi diventa un fatto certo di un ecosistema di competenze, di investimenti, di sapere, di ricerca, ma diventa anche un fatto di convenienza. Sempre più la produzione in autoconsumo, di possibilità, di autoproduzione è la cifra della discussione, non solo in Emilia Romagna, è il mondo che va lì e non lo si ferma. Chi sta dentro lì sta dentro nel sistema, chi sta fuori di lì viene buttato fuori. Ferrara entro il 2024 arriveranno i primi autobus ad idrogeno a comunicarlo e lo stesso assessore alla mobilità Alessandro Balboni. Si tratta di tre mezzi per i quali il comune di Ferrara ha già presentato una delibera per attrezzare la città con una nuova stazione per il rifornimento di idrogeno che sarà realizzata grazie ai fondi del PNRR, un autobus ad idrogeno, significa aria più pulita, l'unica emissione prodotta da questi autobus è il vapore acqueo, ricorda Balboni appunto che ha dato questa notizia poche ore fa. Secondo le previsioni starebbe arrivando il freddo, le temperature sarebbero in calo, attenzione ai contatori dell'acqua. Ecco alcune semplici precauzioni che possono evitare brutte sorprese dovute alle basse temperature. Con l'abbassamento delle temperature previsto per questi giorni si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell'acqua che possono arrivare a rompersi. Per questo ERA ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e spese impreviste poiché ai clienti spetta la corretta custodia di questi apparecchi. I contatori più a rischio sono i contatori collocati all'esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente, come le case al mare o in montagna in cui si trascorrono le vacanze. Se i misuratori si trovano nei bauletti o in nicchi esterni ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati e se la temperatura esterna dovesse rimanere per vari giorni sotto zero, è consigliabile lasciare che da un robinetto esca un filo d'acqua. È sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi. I bauletti o le nicchie, comprese gli sportelli, devono essere opportunamente coibentati, ovvero rivestiti di materiale isolante. Per un lavoro fai da te si possono usare polistirolo o poliuretano espanso, materiali facilmente reperibili presso i venditori del settore edilizio. Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno tre centimetri. Evitare invece di rivestire le tubature, avvolgendole con stracci che assorvono acqua e umidità, che ghiacciandosi aumenta il rischio di rotture. Se i contatori sono i fabbricati non abitati, è bene chiudere il rubinetto che si trova sopra il misuratore o provvedere allo svuotamento dell'impianto. Ancora cronaca, andiamo in provincia di Ferrara. Valeva più di 22 mila euro la merce sequestrata ieri mattina dalla polizia locale di Comacchio sulla spiaggia di Porto Garibaldi. Numerosi capi di abbigliamento ed accessori delle più note griff di moda alla vista degli agenti. Gli uomini abusivi che avevano la merce sono scappati e gli agenti hanno sequestrato i prodotti, merce ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini del caso. E ora parliamo di sanità, di tumori. C'è uno studio Unife da cui arriva un'importante opportunità per ridurre le masse tumorali, ma capiamo meglio in questo servizio. Ridurre le masse tumorali in modo meno invasivo potrebbe essere possibile sfruttando il fenomeno fisico della cavitazione e l'ipotesi recentemente avanzata da Nature Physics, da un team internazionale di scienziati delle università tedesche, svizzere e della Sapienza di Roma e di un laboratorio dell'Università di Ferrara guidato dal professor Simone Meloni. Un approccio che può aprire il campo a innovative applicazioni mediche come l'ablazione di tessuti tumorali attraverso l'applicazione di ultrasuoni a bassa intensità che porterebbero bolle particolari nel luogo dove c'è il tumore potrebbero rimuovere il tessuto malato. Siamo ancora nel campo della sperimentazione è stato detto ma la speranza è che la ricerca abbia delle ricadute notevoli sulla nostra vita quotidiana e su un problema così diffuso. Chirurgia vascolare da Lode, le tre prime specializzate del nuovo ciclo, la scuola di specializzazione ferrarese fu tra le prime a sorgere in Italia e ora la dottoressa Bisogno, la dottoressa Camagni e dottoressa Piccolo sono le tre nuove chirurghe vascolari che hanno concluso i loro studi nell'ambito della scuola di specializzazione di chirurgia vascolare di Unife diretta dal professor Paolo Zamboni. Si tratta delle prime tre specializzate da quando la scuola ha ripreso la propria attività. Tre allieve che si sono diplomate con la votazione di 50 su 50 e la Lode a chiusura appunto del ciclo quinquennale. Quindi complimenti a queste nuove dottoresse. Ora cambiamo argomento. A Ferrara la musica è al fianco delle donne contro l'inferno dell'Iran e dell'Afghanistan. Sentiamo. La violenta repressione della protesta che da quattro mesi vede le donne iraniane e tanti giovani, molti studenti universitari di loro, schierati al loro fianco in difesa di parlamentari dei diritti umani contro il regime degli Ayatollah che continua con feroce accanimento la sua sanguinare in strategie di tortura, violazioni e detenzioni abusive e spietate con danni a morte, diffonde Marche d'olio lo sdegno nei confronti del regime iraniano. La solidarietà alle vittime che nel nostro paese ha coinvolto istituzioni e associazioni partiti tanti cittadini e cittadini arriverà a Ferrara sul palcoscenico del Teatro Comunale a Bado in occasione della rappresentazione della Manon Lescaux di Puccini in scena il 20 e il 22 gennaio. Il regista dell'opera pucciniana Aldo Tarabella infatti ha dichiarato che inserirà nella scena della partenza verso l'esilio il gesto simbolico del taglio di una ciocca di capelli come segno di solidarietà spiegato per unirci alla protesta che ha accomunato in tutto il mondo il sostegno alle rivolte in Iran. Il 12 gennaio scorso il ministro degli Esti Antonio Tajani, rispondendo a nome del governo al questo è un tema al Senato, si è espresso con chiarezza chiedendo all'Iran a nome del governo l'immediata cessazione della repressione e una moratoria per la pena di morte. Anche Ferrara si è mobilitata in questi quattro mesi con manifestazioni di solidarietà le donne iraniane entrate nel mirino degli Ayatollah come ribelli alla Saria. Le proteste, lo ricordiamo, sono iniziate in quel paese lo scorso settembre con l'omicidio di Mashamini, la giovane di 22 anni arrestata da una squadra speciale della Polizia Morale perché il velo le lasciava intravedere qualche capello. Ad oggi, durante le manifestazioni, sono state uccise quasi 500 persone di cui 64 bambini, 4 manifestanti già giustiziati e 109 quelli a rischio di esecuzione, 20 mila, la stima delle persone arrestate. Questi sono i dati riferiti in un'intervista a settimana online vita alla giornalista Anna Spen, Mahmoud Amiri Mogadam, direttore di Iran Human Rights, che è sede ad Oslo. A Ferrara, dopo la manifestazione di fine settembre e gli interventi di diversi giornalisti e scrittrici al Festival di Internazionale su questo tema, a sostenere la causa delle donne iraniane, è stata la mostra fotografica allestita da impresa donna di CNA, come la spilletta che ritrae una donna dell'Iran, da portare in signo di vicinanza alle studentesse iraniane che frequentano l'Università di Ferrara, mentre alcune associazioni vorrebbero promuovere una mobilitazione pubblica senza però creare occasione di un'intimizzazione e pericolo per le studentesse iraniane. Intanto, singole cittadine e cittadini di diverse associazioni stanno facendo girare queste evocativi immagine e dell'artista afghana Samshan Hassani, di 35 anni, graffitista e professoressa all'Università di Kabul. Se condividiamo la foto, dice la didascalia, le daremo voce insieme a tutte le donne afghane e aggiungiamo noi iraniane che stanno vivendo un vero inferno. Cambiamo argomento, parliamo di San Paolo, procedono i lavori nella chiesa di Ferrara, la chiesa dei grandi artisti, quelli appunto in questo edificio molto importante per la città. Vediamo le immagini in esclusiva. Ad un anno dall'avvio dei lavori procede il complesso di lavori alla chiesa della conversione di San Paolo, chiesa chiusa dal 2007, da circa 15 anni, fra le più antiche chiese di Ferrara, il primo nucleo risale al X secolo, chiesa aggredita dal terremoto del 1570 e da quello del 2012, un edificio noto per i tanti artisti che l'hanno impreziosita, tra cui il Bastianino, Girolamo da Carpi, Polito Scarsella e con ogni probabilità Carlo Bononi. Tra le altre cose sono da poco terminati interamente gli interventi di restaura della fresco raffigurante il ratto di Elia ad opera di Scarsellino. Nel complesso sono decine le lavorazioni in corso che in molti casi procedono parallelamente, restauri con solidamenti, puliture, ritocchi, ma anche finiture e verifiche strutturali, oltre all'inserimento di travi di rafforzamento e pilastrini in acciaio. La chiesa è al centro di un doppio stanziamento per un totale di oltre 3,8 milioni di euro, una quota di circa 3 milioni di euro della linea di finanziamento ministeriale del Ducato Estense e più di 800 mila euro circa da parte della regione Emilia Romagna, coi fondi post-sisma, soprattutto per la parte strutturale. L'accordo prevede che il comune di Ferrara sia lente appaltante e saranno necessari ancora alcuni mesi prima di vedere il completamento di questi lavori. Domenica di basket, quella di ieri, sia per Ferrara che per 100, club che però ha perso nella partita casalinga contro Rimini, 75-85, una sconfitta da cui però i ferraresi sono usciti a testa alta. Sentiamo l'allenatore Spiroleca. Siamo rammaricati per quello, sapevamo che era una partita tosta, noi con loro, che c'è una fisicità esagerata, siamo in difficoltà, insomma, lo aspettavamo. L'avevamo preparato molto bene, primo tempo benissimo, potevamo fare anche un allungo però con qualche errorino di troppo e siamo stati lì sui 5 punti. Nonostante tutto la reazione c'è stata, da almeno 10 lì, siamo arrivati a meno 3, lì ci abbiamo fatto una difesa un po' soft, su una penetrazione l'aiuto è arrivato in ritardo, peccato. Dopo, sai, riguardando le statistiche dici qualche tiro libero di troppo, che siamo una delle squadre migliori per i tiri liberi e oggi anche potevano far comodo perché dopo se l'arbitraggio è un po' così maschio noi non è che siamo favoriti, si sa, qualcosina paghiamo, insomma, hanno lasciato un po' i contatti e in quel momento lì noi abbiamo pagato qualcosina. Sapevamo tutti l'importanza di questa partita per entrambe le squadre, siamo nel giorno di ritorno, uno scontro diretto, è stata una partita dura, vera, penso quasi a ritmo play-off e ritengo abbiamo giocato una partita solida, matura, non ci siamo scomposti nel primo tempo quando Ferrara ci puniva spesso e volentieri con un penetra e scarica assolutamente efficace, aveva vivacità dal flusso di palla, grandi positività, sono molto contento perché ci sono vittorie che sono basilari dentro una stagione, io credo che questa vittoria per noi sia un vero passo in avanti, una dimostrazione che stiamo crescendo su un campo difficile dove tante squadre blasonate hanno perso, per cui, ripeto, complimenti alla mia squadra, un ringraziamento al pubblico veramente strepitoso, assolutamente un fattore e adesso però, come ho detto alla squadra, bisogna andare avanti, la prossima trasferta è di per sé ancora più dura e il campionato è lunghissimo, lunghissimo, per cui bene, ma accantoniamo da martedì mattina e ricominciamo. Continua a volare invece la Benedetto XIV, Tramec100 che ieri nella città del Guercino ha battuto Udine 76-65 in uno scontro al vertice che ha proiettato 100 in cima alla classifica di A2, anche di questo si parla questa sera su Telestense durante Baschettin e a proposito invece di Club Ferrara, la partita tra Ferrara e Rimini, la sintesi della partita la potrete vedere sempre questa sera su Telestense alle ore 23 e 30, poi appunto è lunedì, quindi è tempo di lunedì sport per parlare della SPAL, del mercato, dei nuovi arrivi, tra cui l'ultimo, quello del greco Giannis e anche si parlerà ovviamente della vittoria di sabato scorso contro la Salernitana per 1-0 da parte della SPAL. Quindi una serata ricca di sport invece per questa edizione del telegiornale è tutto, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.